John Borno ragazzi, pochi cazzi, scusate se vi levo un minuto della vostra vita, ma è importante vederlo e volevo dire che come sapete molti di voi, quasi tutti, sono stato selezionato per Y Factor e parteciperò ad Y Factor, ma finalmente è giunto il mio momento, ovvero domani, giovedì, 1 maggio ci saranno le prove ufficiali la sera e domenica, questa qui domenica 4 maggio esattamente il giorno dopo la Coppa E, la finale di Coppa Italia ci sarà la puntata in cui parteciperò io se le prove andranno bene le prove non potrete vederle in nessun modo perché saranno private ma la puntata del 4 maggio, quella ufficiale, la quinta puntata di Y Factor la potete trovare sul canale ufficiale di Y Factor di Youtube comunque restate già anche sulla mia pagina Facebook Seekwolf la pagina Facebook di Y Factor, vi metterò tutto in descrizione mi raccomando ragazzi non perdete questa puntata perché è molto importante per me personalmente anche il vostro sostegno perché i miei iscritti mi avete portato voi qui se non avrei lasciato già da prima vi do un ultimo spunto io avrei deciso di portare un video ad Y Factor, un video per voi ovvero il tifoso romanista che vi lascerò appunto anche in descrizione questo perché molti di voi mi avete detto, quasi tutti i miei iscritti mi hanno detto Eh, Seek, porta quel video perché è quello che mi è piaciuto di più io all'inizio ero titubando ho detto no, bisogna portare un video che mi rappresenti bene il mio canale poi ho detto ma sti cazzi, chi è, chi è Seekwolf senza chi lo segue nessuno e quindi ho detto premio chi mi segue porto quel video perché voi volete che lo porto e lo porterò io vi ringrazio per tutto il sostegno che mi date vi sprono domenica 4 maggio sarò su Y Factor ah, sarò a Y Factor alle 21.30 inizierò il programma voi seguitemi, mi raccomando ragazzi io tengo a voi parteciperò finalmente non vedo l'ora, sto fremendo spacco il culo